Eccoci qui, un saluto, come state? Ben ritrovati da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube Mi raccomando, commentate numerosi, lasciate un bel like e iscrivetevi qui ragazzi Mi raccomando, potresti essere tu numero 100.000 perché siamo ormai al traguardo che tanto sognavamo 100.000 iscritti Chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano Chi non si iscrive ti fa Cialanoglu E non voglio coinvolgere Materazzi, Zanetti, eccetera, eccetera Fate la vostra scelta, vediamo quanti sono i milanisti che ci seguono, che si iscrivono E quanti non milanisti che non si devono iscrivere ragazzi Mi raccomando, piacerebbe arrivare nelle prossime ore a questo super 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 traguardo Giornata di vigilia, tra poco parlerà Mr. Pioli, ho già parlato secondo di quando vedete questo video Andremo ovviamente sulla partita E vi dico anche che questa mattina, per chi non l'avesse visto, abbiamo pubblicato una lavagna tattica Secondo me interessante, con Mr. Carlo Pogliani E la quale vi rimando al termine di questo video Ci sono novità importanti Una che mi lascia sinceramente molto perplesso In chiave calciomercato Intanto mi è piaciuto molto il tweet di Simon Chier Il principe azzurro Chier Che ieri ha scritto Spirito di Milanello, focus, football and good mood Vi dicevo che comunque il rapporto con Pioli è tornato su binari sereni Che resterà al 100% nonostante le richieste Tra cui quelle di Samp e Genoa E' importante che a Milanello ci sia armonia Che siano tutti ben coinvolti Per questo Pioli dice Non voglio vedere musi lunghi Che sanno già il martedì che domenica non giocheranno Ecco, quindi Tagliare, tagliare, tagliare Ma ragazzi Siamo ormai verso la chiusura del mercato E ho il timore che qualcuno degli esuberi resterà Purtroppo Milan voleva cedere ai giocatori e fare altre operazioni Quantificate in 4 Terzino, altro centrocampista Inizialmente anche terzino di destra Numero 9 Il centrale l'ha fatto Stando così le cose Insomma Si ridulcono le possibilità Ma sicuramente qualcosa accadrà ancora sul calciomercato In particolare l'attaccante Nel video di questa mattina si parla molto di Reinders E il buon Loftus Chic Ecco A tanti chiedo Ma chi ti ha impressionato di più? Chi ti ha colpito di più? E la stragrande maggioranza risponde Reinders E' stato chiesto anche a Loftus Chic ieri E lui ha risposto Tutti i ragazzi sono fantastici Ma Tiziani Reinders E' molto affamato E sta facendo bene negli ultimi mesi Lui mi ha impressionato di più Ed è anche un bravo ragazzo Effettivamente sembra un acquisto Top 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 Tra l'altro Ecco Non ne ho parlato colpevolmente Ma lo dico oggi Ha dei numeri Clamorosi Ha avuto un rendimento clamoroso Anche a livello di numeri Di database Di algoritmi Nella gara Vinta col Bologna In cui davvero ha fatto un po' di tutto E poi parliamo di calciomercato Si è inserito Ha dettato passaggi Era sempre in movimento Sovrapposizioni Qualità intercetti Mi ha colpito come è uscito Palla al piede In due situazioni pericolose Nella nostra area Con eleganza e pulizia estrema Mi ha colpito ovviamente L'assist non casuale Anche se sembrava La reso facile Con quel mancino Al volo Per Giroux E poi Ha corso 12,802 km Quello che ha corso più di tutti E dovrei andare a fare una ricerca Ma io mi ricordo che Tonali Che era quello che mediamente Correva più di tutti A 12,8 Non so se è mai arrivato Era sempre meno Quindi è un atleta pazzesco Anche perché parliamo Della prima di campionato E poi Il dato Tanti lo saprete Nella sua ragnatela di passaggi Ha avuto il record Di 100% di passaggi riusciti Cosa che non è mai accaduta Da quando viene controllato Quando vengono controllati Questi dati dal 2004-2005 Da Opta 100% passaggi riusciti 28 Alcuni tra l'altro Non facici Non era il Krunic Che faceva il passaggio indietro facile A un orizzontale Andava anche a verticalizzare E ripeto Sembra Sembra essere un giocatore Clamoroso Ma lui a livello caratteriale Lo vedi che è sereno Che è equilibrato Che non è decretelare Da quel punto di vista E quindi Davvero Un acquisto Top 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 Proposito di acquisti Andiamo sul discorso Calciomercato C'è una Notizia che mi sorprende molto Ieri vi dicevo E non lo nego Forse era l'altro ieri O ieri Luca Cuda Quello che sappiamo Non andrà alla Roma Perché un collega Aveva sentito Giuseppe Mourinho Il quale aveva detto No guarda Forse era pretattica Mi viene da dire Perché oggi la notizia Dall'Inghilterra È che Lukaku Pare abbia detto No alla Juve Secondo me È più la Juve Che non lo può prendere Perché non c'è Devlaovic Il mio punto di vista Per la famosa narrazione E ora vuole la Roma La notizia ulteriore È che il Chelsea Finalmente apre al prestito Con diritto E non obbligo Quindi Puoi anche non riscattarlo Ma gli paghi l'ingaggio Non so se è tutto O una parte E paghi anche Il prestito oneroso È chiaro che Considerando l'ingaggio C'è il decreto crescita Perché lo scorso anno Era già in Italia E quindi sarebbe Il secondo anno Considerando l'ingaggio Prestito oneroso È un'operazione Che Ti costa Almeno una ventina Di milioni di euro Per un anno E poi non è in mano nulla La Roma Ha preso a Zbun A Belotti A fuori Ebram Infortunato Può fare Questa operazione A sentire ieri Murigno No Probabilmente Era pretattica Detto questo È una scelta Filosofica Di fronte alla quale Si può dire Ma no Oppure Ma sì Così Abbiamo più possibilità Di vincere Penso che Ti costerebbe Col decreto crescita All'ordo È un'operazione Da 23 milioni di euro 23-24 milioni di euro O una ventina È lista A chi mette i soldi Decidere È una notizia Clamorosa Perché mai aver pensato Sinceramente La Roma Qualcuno mi ha già scritto Ma scusa Queste condizioni Prendiamolo noi Sapete che Lo prenderei subito Però È contro La filosofia Di Redbird A meno che Non cambino idea Vediamo cosa succede Un Lukaku La Roma Fa alzare Il livello Dell'attacco In generale Della squadra Giallo-Rossa Poi Vediamo cosa succede Insomma Poi Attenzione Perché per quanto riguarda Il nostro mercato In apertura Vi dicevo Stiamo trovando Troppe difficoltà A cedere Perché sono giocatori Forse non così straordinari Altrimenti li terremmo Questo vale un po' Per tutti gli esuberi Anche altrove Ma anche perché A Milano E al Milan Si sta bene Ecco La situazione di Valutuer L'avete ben chiara Il giocatore Alla fine È ancora lì Aveva rifiutato Il Fulham Aveva stizzato L'occhio al Bologna Che però Non lo poteva acquistare Poi col Werder Sì ma Però Alla fine col Werder A oggi Non c'è La fumata bianca E quindi Rischia di rimanerti Sul gruppone Questo Può non essere Un problema Perché Valutuer Forse ha fatto dignitosamente L'alternativa A Teornandez Secondo me è un po' sotto Che è il discreto Complessivamente Non sono stato soddisfatto Però Questa non rischia Se resta Di essere ancora meno forte Perché Ha La critica attorno Ha Mancanza di fiducia Perché Milano Lo voleva spedire E resta da separato in casa Però Ecco Se non lo cedi Non incassi Quei 4 milioni di euro E non puoi prendere Un sostituto Di Teornandez Che per il Milan Il nome più caldo Era Calafiori Anche se poi È stato un po' abbandonato Per le difficoltà A cedere Balloture Dal Milan Ci arriva Purtroppo Una comunicazione Non ufficiale Ma comunque È quello che arriva dal club Per cui In Milano Prenderà il terzino sinistro Quindi In Milano Prenderà un viceteo Hernandez Con la volontà Di puntare su Bartesaghi Bartesaghi Il suo tecnico Della primavera Dice Non ne può parlare male Ci mancherebbe altro La corazzeria Per fare il viceteo Ce l'ha tutta Fisico A motore Elegante Non sa nemmeno Lui potenziale che ha A me ricorda bastoni Ma non è ancora ben definito Nel ruolo Può diventare un centrale Nella difesa 4 Può fare il terzino E anche il bracetto Di difesa Deve crescere Da punto di vista Caratteriale Bartesaghi Ha 17 anni Ne farà 18 Il 29 dicembre Alt 1,93 Fisicamente Straordinario Però Faccio presente Che lo scorso anno Lui In primavera Spesso faceva anche La riserva Ha fatto 17 partite Per un totale Di 877 minuti Quindi neanche 10 partite intere Ora so Che risulterò Impopolare Me ne rendo conto Però Sapete quanto Anch'io Abbia voglia Di vedere I nostri ragazzi In prima squadra E spero E spero Che Bartesaghi Possa facciarsi Seriamente La prima squadra Però Teo Hernandez È l'interprete Del ruolo Top al mondo È inimitabile È straordinario È il più forte Di tutti Pensare Di affidare Il ruolo Di vice Top al mondo A un ragazzo 17 anni Quasi 18 Che lo scorso anno Non faceva neanche sempre Il titolare In primavera Secondo me È un azzardo Clamoroso Abate Ne parla benissimo Ma fa capire Tra le righe Ma neanche troppo Tra le righe Che caratterialmente Deve crescere Se caratterialmente Non sei ancora pronto Non puoi fare Il vice Teo Hernandez E secondo me Se non lo fa lui Florenzi Florenzi C'è poche volte Se lo sposti a sinistra Non mi sembra al massimo Calulu Se lo sposti a sinistra Non mi sembra al massimo Sposti Calabria Sulla sinistra E metti Calulu Sulla destra Può essere una soluzione Ma Calabria Sulla sinistra Non mi sembra al massimo Ogni tanto difficoltà Spesso anche sulla faccia destra Ultimamente Quindi Se il pensiero è Devo fare Milan Sassuolo Poi c'ho la Champions Faccio riposare Teo Gioca Bartesaki È affascinante Ma è troppo rischioso E Abate Fa capire Che è il livello caratteriale Ragazzi Non è pronto oggi Deve crescere Caratterialmente Significa che oggi Non è pronto Poi è vero che Bisogna avere il coraggio È bellissimo Però ragazzi Bisogna essere anche Molto aderente Alla realtà C'è Milan Atletico Madrid Di Champions League Al raffreddore Teo Giochiamo con Bartesaki Secondo me no Per questo Capisco che poi Tutto sia figlio Della mancata partenza Di Ballotouré Però se poi Ballotouré Lo lasci fuori Dalle liste Non puoi farlo giocare Come dice Teo Quindi lì Come alternativa Secondo me C'è un vuoto E c'è un azzardo E c'è una scelta rischiosa Poi negli ultimi giorni Di mercato Può cadere tutto Però c'è questo rischio Che Si resti così E che quindi Venga promosso Bartesaki Che a me piace Mi è piaciuto So che direte Ma perché Dici così Perché ragazzi Bisogna può essere Con questo Lo scorso anno Faceva spesso Panchini in primavera Il ruolo di Vicente E' una cosa seria Quando l'altro giorno E' stato buttato a terra E' caduto E si faceva male La spalla Si toccava la spalla E gli faceva male La spalla Io ho detto No Cioè Ci siamo spaventati tutti Non lo so ragazzi Per me Per me siamo meno forti Lo scorso anno Perché avevi un ballo Touré Che era motivato Quest'anno Non è nemmeno quello Florenzi avrà un anno in più Potrebbe servire anche sulla destra Bartesaghi Secondo me Bisogna giocare Prima di tutto In primavera Con continuità Me l'ha detto Anche qualche Ha detto i lavori Ecco Quindi non è soltanto Il mio pensiero Per questo E' bella La favola Però Parliamo di un ragazzo Di 17 anni Che ha diritto Di sbagliare E quando fai L'alternativa Nel Milan Comunque Hai il diritto Di sbagliare Ma non bisogna sbagliare Per questo Rischia di crearsi un cortocircuito Che rischia magari anche Di bruciare Bartesaghi Ditemi che cosa ne pensate Di tutto Di Bartesaghi Mettetevi da parte Il lato sentimentale Perché è un ragazzo Di Milanello Cercate di essere Molto cinici e concreti E ditemi che cosa ne pensate Poi se Bartesaghi Diventa un ottimo Vice eternale Sono primo a essere contento Però ha un rischio Dall'altra parte Un rischio troppo grosso Su Lukaku Vediamo che cosa accade E Reinders Ragazzi È clamoroso Non credo che ci sbagliamo Nel dire una cosa del genere Anche se C'è un precampionato E c'è solo una partita intera Per questo Mi fa impazzire Iscrivetevi numerosi Ragazzi Iscriviti tu Che non ti sei ancora iscritto Ami il Milan Tu sei nuovo Iscriviti Arriviamo oggi A 100.000 iscritti Chi non si iscrive Ti fa la seconda Squadra di Milano Chi non si iscrive Ti faccia la Noglu Un abbraccio Vi rimando al video di questa mattina A Lavagna Tattica Grazie a tutti